Il capolavoro d'arte moderna, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 battuti secondi per tagliarti quel sorriso del cratino dal muso, 1, 2, 3 Non ce l'ho fatta più, ho resistito 11 anni, 11 Poi, come ne lo parlo, mi voglio, un circo, posso crescere a casa mia Senza pensarci due volte, mi presentai Buongiorno, sono un mago, non cercavano un mago, cercavano un clavo Ma c'era un numero dopo gli elefanti Però arrivò l'occasione della mia vita Il mago non è un rovaggio, dobbiamo andare di sera, c'è qualcuno che può fare il mago Io, io, lo posso fare io E fu così che da quel giorno divento ufficialmente un mago